Ottimo risultato per il sentiero Pasolini nel decimo censimento dei luoghi del cuore del FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Con 2.238 voti il percorso si aggiudica al dodicesimo posto nella classifica dei monumenti più votati nel Lazio e diventa 203esimo nella lista nazionale. Il sentiero Pasolini è dedicato agli amanti delle due ruote. Lungo circa 17 chilometri parte da Ostia Antica e arriva a Casalbernocchi costeggiando l'argine del Tevere e toccando i quartieri di Dragona, Dragoncello, Acilia e Centrogiano. Questa pista naturale è nata grazie alla spontanea collaborazione di cittadini appassionati di ambiente, bicicletta e paesaggio. I volontari lo curano e lo rendono aperto e fruibile evitando che la vegetazione prenda il sopravvento. Una bella realtà per il territorio del decimo municipio che potrebbe così aumentare ancora di più il turismo ecosostenibile. Lungo il percorso infatti si possono ammirare siti storici di grande pregio, dal castello di Giulio II al borgo di Ostia Antica, dagli scavi archeologici alla torre medievale di Dragoncello, dall'antica città di Ficana fino alla scoperta di un mondo naturalistico, per certi versi, ancora incontaminato. Il sentiero piace non solo ai residenti ma anche alla regione che ha deciso di prendersene cura. La Pisana ha approvato all'unanimità una mozione che punta a renderlo percorribile e a far sì che anche le altre amministrazioni, vale a dire il nono e il decimo municipio, facciano lo stesso.